Giornata nera oggi sulla Regina, la strada comasca infatti è stata letteralmente presa d'assalto da auto, camion e pullman che non possono più passare dalla statale 36 vista la chiusura della galleria di Montepiazzo. Il momento clou questa mattina fra le 8 e mezzogiorno, 4 ore di blocco totale che hanno messo in serie difficoltà gli utenti della già trafficatissima statale Regina. Il traffico arrivava nei comuni di Colonno, Sala e Ossuccio, era praticamente paralizzato, bloccato, bloccato. A fatica abbiamo fatto transitare due ambulanze ma veramente a fatica. Era completamente bloccato il traffico per ore e ore, infatti mi chiedevano cosa è successo. Alcuni colleghi ho saputo che hanno fatto un paio d'ore di coda. Alla base dei disagi l'evidente aumento di traffico sulla Regina, legato alla chiusura della galleria a Montepiazzo sulla statale 36. Mentre in direzione sud già da tempo erano in corso alcuni lavori di consolidamento, dallo scorso venerdì il tunnel è off-limits anche in direzione nord per alcune lesioni nel rivestimento. Inevitabile quindi la chiusura della SS 36 fra Colico e Bellano, con uscita obbligatoria per i mezzi pesanti, ad Abbadia Lariana, mentre in caso di traffico particolarmente intenso è possibile usare anche l'uscita di Dervio. In ogni caso il provvedimento ha mandato in tilt da giorni la circolazione nelle chiese verso Colico e Sondrio, con incolonamenti lunghissimi sulla vecchia provinciale 72, dove tra l'altro oggi è stato messo in atto il senso unico alternato da Varenna a Dervio. Queste sono le auto uscite allo svincolo di Bellano e che ora si ritrovano ferme in coda sulla vecchia strada. Succede che io ho fatto 20 minuti al passaggio a livello e adesso lo sto facendo quasi mezz'ora qua. Devo andare a Morbenio e speriamo di arrivare perché stiamo lavorando, quindi forse ci salta la giornata di lavoro. Lei è in coda da talmente tanto tempo che è addirittura sceso dall'auto. Sì, 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 è lo stufo di stare su almeno quattro passi. Una situazione che dura da giorni e che ha già fatto partire il passaparola fra gli automobilisti diretti in Alto Lago, Valtellina e Val Chiavenna che per bypassare il traffico lecchese hanno pensato di passare dalla Regina. Una scelta che oggi ha mandato in tilt la statale Ecomasca e che potrebbe rappresentare un grosso problema in vista delle prossime settimane. La chiusura della galleria infatti potrebbe durare fino al termine di giugno. Questi imprenditori, queste aziende, questi veicoli pesanti, dove li facciamo transitare? Di notte non possono passare da Cernobbio, qui abbiamo le fasce orarie. Di là è stata chiusa questa galleria dalla statale Rariana, capisco benissimo le loro preoccupazioni e le loro difficoltà.